Bentrovati amici, oggi volevo condividere con voi una mia grande passione, un mio grande sogno, ovvero la possibilità di gestire il Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli. Come sapete a febbraio scadrà la concessione per la gestione del Cineteatro e probabilmente nei prossimi giorni o attraverso un bando o attraverso l'affidamento della gestione con una decisione del Consiglio Comunale di Agropoli, insomma ci saranno dei risvolti in merito. E io non vi nego che sono pronto, sono pronto perché penso di avere tutte le capacità, gli strumenti, l'entusiasmo, le idee, la forza per poter attivare un'iniziativa di questo genere. Naturalmente non è consigliato un investimento in questo momento particolare della pandemia e soprattutto nel settore dello spettacolo e del cinema dove, come sapete, le porte sono chiuse. Però io penso che bisogna comunque dare una svolta e soprattutto per la cultura, per il teatro, per la cinematografia della città di Agropoli è davvero indispensabile che si comincino a fare delle iniziative. Io già mi sono attivato con un festival, anche in passato ho lavorato su tante progettualità, penso di avere anche ottimi collaboratori, tanti amici e anche qualche sostenitore, per cui adesso aspetto il vostro like oppure una vostra considerazione, un vostro commento per aiutarmi a valutare se questa impresa, diciamo, sia possibile oppure no. Grazie e a presto!